ciao io sono sofia lavoro per il museo provinciale delle miniere e oggi sono qua per presentarvi le quattro nuove mascotte del museo snevi abita sul monte neve e ha già esplorato tutto il paesaggio minerario rocchi abita nell'impianto di lavorazione a ridanna e ha già usato tutti i macchinari almeno una volta scribi abita nella sede di cadipietra e conosce tantissime storie della gente che lavorava nelle miniere ed ecco la mascotte di predoi ha studiato benissimo la storia delle miniere e la conosce tutta a memoria ma aspetta com'è che ti chiami ma come non hai ancora un nome ma allora te lo dobbiamo cercare e ora tocca a voi sono sicura che insieme troverete un grande nome allora mandatecelo così che la nostra mascotte potrà scegliersi il suo nome preferito le quattro mascotte io non vediamo l'ora di potervi nuovamente salutare nel museo provinciale miniere a presto